Noi purtroppo in una rosa di 22 giocatori adesso ne abbiamo disponibili 14 e i 14 hanno tutti giocato un match molto duro mercoledì quindi purtroppo tra chi rientra degli infortuni e i lungodecenti siamo in un momento veramente difficile ma purtroppo questo è poi giocare contro un avversario del genere se hai un difetto te lo valorizza Io devo dire che i ragazzi mi hanno sempre soddisfatto sotto il punto di vista della prestazione purtroppo poi però gli errori li paghi e oggi siamo andati in vantaggio e abbiamo subito tre gol per clamoroso errore nostro oltre ripeto al fatto che giocavamo contro un grande avversario, un avversario con una panchina importante e i cambi si sono visti che hanno cambiato oltre che la partita e il risultato hanno cambiato anche la tendenza proprio della gara per sé Era una partita difficile io e tutta la settimana che lo dico ho cercato di stimolare i ragazzi in settimana il più possibile perché so le insidie di queste partite quando giochi con squadre come questa che è bene organizzata e viene qua perché ha l'acqua la gola quindi deve fare assolutamente punti quindi sapevo che era una partita complicata e si è resa ancora di più con l'ingeguità l'errore che abbiamo fatto insomma sul gol loro e stiamo passando in svantaggio però qui abbiamo dimostrato veramente di essere una squadra esperta che non ha perso la testa ha continuato comunque a giocare, a creare situazioni da gol purtroppo l'unico handicap è che ne sbagliamo un pochino troppe però per fortuna abbiamo raggiunto quasi subito il pareggio e poi nel secondo tempo ce l'abbiamo messa tutta per portarla a casa e secondo me abbiamo portato a casa una vittoria meritata ma una vittoria sicuramente molto importante per la classifica perché ripeto queste ora sono tutte partite difficili anche quando giochi con le squadre di bassa classifica come questa che ora in questo momento il pallone pesa un pochino di più per tutti ogni palla è molto più difficile anche le squadre così che lottano ce la mettono tutta fino alla fine quindi è una vittoria importante per noi e ce la godiamo tutta